Stanno crescendo in maniera considerevole gli iscritti alle palestre e gli appassionati di bodybuilding, soprattutto ragazzi molto giovani che però non sempre sanno come muoversi correttamente. Da qui nasce la necessità di farli incontrare con i massimi esperti del settore. Per la prima volta nel sud Italia accadrà a Sava domenica prossima il 30 giugno a partire dalle 18 con nomi del calibro di Andrea Carichino e Michele Chimienti, ma anche il tarantinissimo Toni Mancino, tutti atleti di alto profilo che spiegheranno le innovazioni in materia ma risponderanno anche alle domande dal pubblico, workshop gratuiti e poi prove pratiche in palestra. Interverranno anche Gianluca Di Lorenzo, Leo Forte, Andrea De Luca e Mario Valentini. La serata si concluderà con musica e buon cibo. Molti ragazzi appassionati del settore sanno ma non sanno proprio tutto, quindi ci vuole sempre che si parli in maniera più approfondita e in maniera più contestualizzata appunto su quelli che sono gli obiettivi di ogni persona, di ogni ragazzo o ragazza. Quindi proprio per questo nasce la TM Gym Fest, proprio per questo nascono questi tipi di seminari. Nuove tendenze di allenamento intese come powerlifting, streetlifting. Il giorno prima è un prologo importante, un altro regalo assolutamente gratuito alla cittadinanza. Alle 18 ti faremo tutti in Italia, infatti abbiamo previsto di allestire un maxischermo. Vi aspettiamo appassionati di bodybuilding ma non solo. Grazie a tutti.